Tu vai in giro a Milano? Ma no, esco nel senso che viene di fatto la regola, l'indicazione è quella di tenerla diciamo al centro della città dove probabilmente anche per il Natale c'è più gente e lo faccio, mi sembra naturale. Ma sai, in queste cose qui noi dobbiamo decidere, le regole vanno rispettate o non vanno rispettate? Perché altrimenti possiamo parlare per 50 anni e rimaniamo dove siamo. Se vanno rispettate, possono essere giuste o meno, ma le segui, poi diciamo anche contestarle, ma in ogni caso le rispetti. E questo è un punto centrale anche di questa discussione, perché se io vado in tre ristoranti e non mi chiedono il Green Pass, ma invece c'è il Green Pass, capisci che... Io mi arrabbio, anch'io come te, sono d'accordo con te, non va bene. Un problema diciamo di correttezza della regola, ma anche diciamo della capacità dello Stato di far rispettare una decisione. Allora a quel punto è inutile che parliamo e senza controlli diventa tutto un po' ridicolo.